Meno tasse per tutti, Forza Italia torna all'antico al primo slogan lanciato da Berlusconi 30 anni fa e ancora attuale oggi. Per diffonderlo tra la gente il partito ha organizzato gazebo in ogni angolo d'Italia e in Molise ha scelto piazza Concezione di Isernia dove sono intervenuti l'eurodeputato Aldo Patriciello, la parlamentare Anna Elsa Tartaglione, il sottosegretario Roberto Di Baggio e tanti altri esponenti del partito tra cui il candidato sindaco in pectore Raimondo Fabrizio. Noi proponiamo oggi la nostra ricetta che presenteremo a questo governo. Sappiamo bene che quello che è il progetto di una flat tax oggi è irrealizzabile con questa maggioranza così variegata per questo stiamo chiedendo una revisione delle aliquote IRPEF e passare da un regime di 5 a 3 aliquote. Ma non si è parlato solo di tasse sotto il gazebo di Forza Italia Isernia. L'attenzione è tutta per le prossime comunali e per lo stato di divisione in cui ancora versa il centrodestra rispecchiando la spaccatura esistente alla regione tra la maggioranza di Toma e la cosiddetta minoranza di Orio. Il compito è difficile ma Isernia ha voglia di ripartire. Isernia è una città di centrodestra, è sempre stata di centrodestra. Credo che queste sono le prime prove ma come sempre guardi noi ieri proprio abbiamo presentato a Roma il candidato del centrodestra unitario. Il centrodestra governa tante regioni, ci presenteremo in tanti luoghi uniti, ci auguriamo che questo possiamo farlo anche ad Isernia. Fratelli d'Italia reclama il sindaco, è toccato a Termoli a Forza Italia, a Campobassola Lega, il candidato che non ha vinto, a Isernia tocca a Fratelli d'Italia, è così o no? Guardi sul tavolo nazionale non c'è alcuna casella assegnata, in ogni caso abbiamo chiesto ai nostri alleati di darci una rosa di nomi per scegliere. Credo che non bisogna andare a fare degli errori che sono stati già commessi in precedenza, no ad imposizione, sì invece a sederci intorno al tavolo se poi il candidato lo dà Fratelli d'Italia, Forza Italia, la Lega o qualsiasi altro movimento civico che c'è anche in regione, questo credo che sia un di più, un qualcosa che comunque può essere a prescindere visto in avanti. Non è questa la cosa fondamentale. Si fanno dei nomi Mauro, Melogli, Fabrizio, solo indiscrezioni oppure c'è qualcosa di vero? Credo che siano tutte personalità che in qualche modo rappresentino i Sernia o che comunque i Sernia siano riconosciute e soprattutto alcune che hanno già ricoperto determinati ruoli. Ci sono degli elementi di novità, vediamo un po' quella che può essere il migliore sintesi, credo che comunque da qui alle prossime 20 giorni le cose andranno avanti, così come sarà affrontato anche sul piano nazionale il tema dei capoluoghi di provincia.